Grazie, vi ringrazio della loro accoglienza. Io ho conosciuto Cecilia, come era chiamata nell'ambiente astronomico, quando era già alla fine della sua carriera, era già vicino ai 70 anni, e è stato uno dei più grandi astrofisici del XX secolo e la sua grande impresa è stata proprio quella compiuta in gioventù, quando nel 1925 pubblicò il libro Stellar Atmosphere e poi nel 1930 The Stars of High Luminosity, le stelle di alta luminosità. Perché questa importanza di questo lavoro? Perché fino all'inizio del Novecento, dall'analisi degli spettri stellari, cioè dalla dispersione della luce delle stelle, si vedeva che certe stelle di colore giallo, come il Sole, avevano lo spettro solcato da righe attribuibili a metalli, mentre stelle più calde avevano lo spettro solcato da righe attribuite all'idrogeno e all'elio, altre più fredde righe di molecole dell'ossido di titanio. E allora si pensava che ci fossero stelle all'idrogeno, stelle all'elio, stelle al ferro, stelle all'ossido di titanio, cioè che fossero differenze di composizione chimica. E solo verso i primi anni del Novecento si cominciò a capire che gli atomi possono emettere o assorbire la luce non solo in dipendenza della loro presenza nelle atmosfere stellari, ma anche in dipendenza della temperatura e della densità. Però erano intuizioni, analisi qualitative della composizione chimica delle stelle. E fu Cecilia, proprio utilizzando l'enorme materiale raccolto da un'altra donna, un'altra astronoma, Annie Cannon, che aveva preso e studiato gli spezzi di 200.000 stelle. C'è ancora un catalogo di Harvard che contiene queste 200.000 stelle e essa utilizzò tutto questo enorme materiale proprio per arrivare a capire che la composizione chimica delle stelle è uniforme, molto uniforme per tutte, perché la quantità, la variabile, diciamo, prevalente che determina l'aspetto dello spettro è la temperatura e che la composizione chimica è in gran parte uniforme. Infatti oggi sappiamo che il 90% della materia nell'universo è idrogeno, il 9% è elio e solo l'1% contribuisce a tutti gli altri elementi. Questo perché idrogeno e elio si sono formati nei primi istanti di vita dell'universo e queste ragioni sono quelli più abbondanti. Tutti gli altri elementi sono stati costruiti nell'interno di stelle di alta luminosità, appunto stelle che finiscono la loro vita in modo esplosivo e in questa morte esplosiva danno luogo a tutta una serie di reazioni nucleari nel corso delle quali costruiscono tutti gli altri elementi, su su appunto dall'elio, su su fino all'uranio. Però nemmeno, non solo Ressel non credette a questa sovrabbondanza dell'idrogeno e elio, ma addirittura influenzò ancora Cecilia, tanto che anche lei pensò che ci fosse qualcosa e non andava. Ma invece la grande scoperta è stata questa, dell'uniformità, della composizione chimica dell'universo e della grande sovrabbondanza di idrogeno e elio, che non si verifica sulla Terra perché sulla Terra questi gas leggeri sono sfuggiti nello spazio interplanetario perché la massa della Terra non è sufficiente a trattenerli. Ma originariamente anche la Terra era così ricca di idrogeno e elio, come il ricco Giove, che è una grossa massa che è in grado di trattenere anche questi elementi. Quindi questa è stata la grandissima scoperta di Cecilia. Oltre poi a tutti i grandi contributi che ha portato, ma questa è stata la pietra miliare che ha soltato proprio la ricerca scientifica del XX secolo. E' un campo in cui appunto io ho molto lavorato proprio sull'analisi chimica quantitativa dell'atmosfera stellari alla ricerca di questa uniformità e a capire perché c'erano delle stelle anomale che invece presentavano delle composizioni chimiche che deviavano dalla norma. E questo è un problema che è ancora aperto oggi, il perché di queste deviazioni. Cecilia diceva che già da bambina aveva la passione per la scienza. Ecco, la mia vita è stata molto diversa, io non avevo passione per la scienza. Quali sono state le mie passioni? Beh, io da bambina avevo la passione del gioco, la passione dei giochi sfrenati, avevo la passione dello sport. E posso raccontare un episodio che dimostra qual era la mia passione. Erano gli anni 30, avrò avuto 8-9 anni e allora c'era nel ciclismo binda e guerra. Io ero per binda, ma mi ricordo che un giorno arrivava il Giro d'Italia a Firenze e io avevo la voglia di andare a vedere, i miei miei portarono da degli amici che abitavano al campo di Marte, là dove era arrivato il Giro, e i corridori stavano venendo via e c'era guerra. Io mi ricordo che gli toccai la manica come fosse un santino, proprio perché, malgrado che io fossi per binda, ma le arcoguerre erano una specie di divinità, malgrado che io fossi per binda. Queste erano le mie passioni, passioni che poi, quando ho avuto 17-18 anni, ho potuto fare sport agonistico, ho potuto fare campionati universitari, ho vinto due campionati universitari, ho potuto partecipare a due campionati assoluti, sono arrivata terza, e quindi questa è stata la mia vera passione. A scuola, a scuola invece io andavo così abbastanza bene, studiavo da bravo impiegato o scienzioso, perché i miei facevano grossi sacrifici per farmi studiare, e quindi mi sentivo un dovere di studiare seriamente. Però dire che io avevo passione per qualcosa e mi interessava qualcosa in particolare, no, non è vero assolutamente. Che cosa avrei fatto da grande? Beh, allora, quando avevo 14-15 anni, ero un'appassionata lettrice di libri d'avventure, e pensavo che avrei fatto l'esploratrice nell'Africa nera, nelle zone più inesplorate, nelle giungle più cupe. Poi dopo, siccome avevo molta facilità per scrivere, anche da bambina, quando facevo le medie, allora era la prima o la seconda, il ginnasio, ero tifosa della Fiorentina, e mi ricordo che scrivevo, anche se i miei anni non mi portavano mai allo stadio perché non erano tifosi, ma io leggevo le cronache della partita sulla Nazione, e poi riscrivevo la cronaca a modo mio, e allora mi pensavo anche che forse da grande avrei fatto la giornalista. Quando sono arrivata, appunto, all'università, finito in liceo, beh, io non so che cosa, non avevo assolutamente le idee chiare, che cosa avrei fatto, boh. E mi scrisse a lettere, proprio un po' così, perché in casa i miei, che non avevano fatto l'università, parlavano sempre di amici loro che avevano fatto belle lettere, come si diceva allora, e mi iscrissi all'università, andai un giorno alla prima lezione a lettere, e mi ricordo c'era una lezione di De Robertis, che parlava di un libro di cecchi, I pesci rossi, e mi ricordo fu un'ora di una noia infinita, proprio a me non me ne fregava nulla, perché avevo completamente sbagliato strada. E così decisi di cambiare, siccome al liceo quello che mi piaceva, mi interessava di più, erano matematica e la fisica, dissi che sarebbe stato meglio iscriversi a fisica, e in questo giocò anche il fatto che la mia compagna di banco, che era una amica migliore che avevo al liceo, aveva scelto di fare fisica. Poi lei, che era americana, dovette partire durante la guerra, se erano i 40, e poi ho saputo che aveva fatto lettere. Io invece andavo a casa a chiedere ai miei, a dirgli guardate, no io non posso fare lettere, proprio non fa per me, e vorrei scrivermi a fisica, però fisica costava un po' di più, perché c'era le spese per il laboratorio, e i miei mi dissero, vabbè se questo ti piace, se pensi sia più adatto, per te iscriviti a fisica. E a fisica mi sono trovata subito bene, e ho cominciato a studiare a un interesse, non direi con passione, la passione ce l'ho mai avuta allora per lo studio, però studiavo volentieri, con molto interesse, mi piaceva il laboratorio, mi piacevano le materie, e quando si è trattato di scegliere la tesi di laurea, anche lì non avevo le idee chiare, e mi sarebbe piaciuto fare una tesi in elettronica, perché l'elettronica era la materia più nuova, più emergente, c'era da lavorare parecchio in laboratorio, a me piaceva il laboratorio, a me è sempre piaciuto armeggiare con le mani, costruire, fin da bambina avevo seghe, martelli, iodi, smontavo e rimontavo la bicicletta, e quindi mi sarebbe piaciuto che la tesi lì, però il direttore dell'istituto di fisica mi ha detto una tesi in elettrostatica, che era un argomento ormai superato e non mi interessava, e quindi dopo una decina di giorni che cercavo di vedere, era una tesi compilativa, mentre io avevo voluto fare una tesi di laboratorio, decisi di cambiare, e non c'era molto da scegliere, c'era l'osservatorio astrofisico, e andò a chiedere la tesi all'istituto d'astronomia, ecco, e così ho cominciato a fare una tesi in astronomia, e in questo, direi, somiglio molto più a Schapler, quello che è stato il maestro di Cecilia, che alla Cecilia Gaposchkin, infatti Schapler in una sua autobiografia racconta che quando decise di iscriversi all'università non sapeva che cosa avrebbe fatto, poi disse, la prima materia in ordine alfabetico era l'astronomia, e così decise di fare l'astronomia. Beh, per me non è andata proprio così, ma quasi. Ecco, e così ho cominciato a fare la tesi, ho cominciato non solo a leggere testi sull'argomento, un argomento che era molto simile a quello di cui si occupava Cecilia Penne Gaposchkin, cioè uno studio di una classe di variabili, di stelle variabili, che si chiamavano Shefeidi, dal nome della prima scoperta, che era Delta Shefei, cioè la quarta, alfa, beta, gamma, delta, si, la quarta in splendore della costellazione del Shefeo. E queste variabili Shefeidi sono molto interessanti, perché un'altra donna, alla fine dell'Ottocento, Harriet Leavitt, aveva scoperto che c'è una relazione che lega la lunghezza del periodo di variazione con lo splendore intrinseco delle stelle. Cioè, queste stelle hanno dei periodi, cioè un tempo che impiegano per passare dal massimo, vanno giù al minimo di luce, e tornano al massimo. Quindi l'intervallo fra due massimi, quello che si chiama il periodo, andava da un giorno a una cinquantina di giorni. e scoprì che quelle più luminose sono quelle che hanno periodi più lunghi. Quindi questa relazione è molto importante, perché misurare il periodo, misurare la variazione di luce, è un'impresa abbastanza facile. Mentre misurare lo splendore intrinseco di una stella è molto difficile, perché bisogna conoscere la sua distanza. Quindi una volta che si sia riusciti a misurare la distanza anche di una sola di queste stelle, si può tarare questa relazione e dalla misura della relazione fra lo splendore apparente e il periodo si può risalire allo splendore assoluto. Ma conoscere lo splendore apparente, cioè quello che è legato allo splendore intrinseco e alla distanza, quindi a parità di splendore intrinseco, sarà tanto più debole che la più lontana. Quindi è molto più facile misurare i periodi e lo splendore apparente che non lo splendore intrinseco. Ma da questa relazione si può arguire che lo è lo splendore intrinseco. Misurare lo splendore apparente e quindi ricavare la distanza. Perché evidentemente, conoscendo lo splendore intrinseco, più debole lo splendore apparente, maggiore la distanza. Quindi risolveva un problema estremamente importante. Misurare la distanza, per esempio, di famiglie di stelle, come di ammassi stellari, in cui si trova una cefeide. Perché, conoscendo la distanza della cefeide, si conosce immediatamente anche la distanza dell'ammasso. Quindi questa è stata un'importante classe di stelle variabili che ha studiato la Cecilia e che io ho avuto come argomento di tesi. Che la vita della Cecilia Kaposkin sia stata difficile dal punto di vista scientifico, intanto lo dimostra il fatto che se voleva lavorare in astronomia doveva emigrare. In Inghilterra le donne, come carriera, potevano avere solo quella dell'insegnamento. E Cecilia, come scrive nella sua biografia, assolutamente non era interessata all'insegnamento. Voleva fare ricerca. Anche in tempi recenti, io parlo dell'attualità, c'è per esempio una famosa coppia di astrofisici, si chiamano Griffin. Lui era astronomo, è astronomo, forse ora sarà in pensione perché c'è più o meno l'età mia, ma insomma lui lavorava a Cambridge, in Inghilterra. lei era astronoma come lui, ha sempre lavorato, ha pubblicato un enorme numero di pubblicazioni, ma non ha mai potuto avere un posto di ruolo, fino a 70 anni è andata avanti con borse di studio, perché in Inghilterra non era ammesso che due persone della stessa famiglia avessero un posto di ruolo nello stesso osservatorio. Quindi fino a 70 anni si è dovuta arrangiare riedendo borse di studio a destra e a sinistra. Mentre la sua attività è stata veramente ottima. Ecco perché anche Cecilia Pene-Gaporskin dovette emigrare, andare negli Stati Uniti, dove perlomeno ha potuto svolgere per parecchi anni attività di ricerca, sia pure in una posizione come lei stessa dice abbastanza marginale. Perché ancora fino agli anni, alla fine degli anni 50 quando mi sono trovata io a lavorare negli Stati Uniti, nella staff scientifica di donne non ce n'era. C'erano tecniche, cioè tecniche di laboratorio che facevano le misure per l'astronomo. Ma erano sempre in una posizione subalterna, oggi le cose sono cambiate. Però, ancora oggi, la situazione negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni in generale, contrariamente a quanto si pensa, è peggiore nei paesi latini. Infatti, se si legge anche articoli di queste scienziate americane, scrivono di essere sempre emarginate dai colleghi uomini, che non c'è quello spirito di cameratismo, di colleganza, che invece c'è in Italia, c'è in Francia, c'è in Spagna, c'è anche in paesi in via di sviluppo, come in Turchia o in Messico. Ecco, questa è una situazione che le donne americane, le scienziate americane, sentono molto, anche se ci sono moltissime donne in posizioni di prestigio e di gran valore scientifico. Ecco, questo è come io ho cominciato. Beh, ho cominciato appunto dopo la tesi, tesi che ho scritto, era nel 44, io ho cominciato a fare le osservazioni per la tesi nel giugno del 44, all'osservatorio d'Arcetri, con un telescopino di un diametro di 30 centimetri, che oggi è piccolo anche per i dilettanti. Allora era uno strumento che permetteva di fare delle ricerche pubblicabili anche su riviste internazionali. Quindi pensate, dal 44 a oggi, sono passati 60 anni, oggi si lavora con strumenti, tutti gli strumenti che si può fare del lavoro decente oggi, sono strumenti da 4 metri in su di diametro, sono tutti strumenti che sono situati in località impervie, lontane dall'abitato, lontane dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento da smog. Inquinamento luminoso impedisce di vedere il cielo. Oggi i nostri bambini non sanno più che c'è il cielo, perché oggi il cielo non si vede. Oggi le luci sono tali che a malapena si riesce a vedere la luna venere, ma venere, poi molti la scambiano per un UFO, perché chi la vede mai? Quindi è una sorpresa. Quindi l'inquinamento luminoso ha portato a una perdita di una cultura popolare che 50 anni fa era comune, tutti più o meno conoscevano le costellazioni più facilmente riconoscibili, l'orsa maggiore, l'orsa minore, erano di dominio. Tutti riconoscevano Marte, Giove, Venere, nessuno si sognava che fossero astronavi. Oggi questa cultura si va perdendo. Solo bisogna proprio andare in montagna, in zone lontane dall'abitato, perché se andate a cortina da un pezzo il cielo non lo vedete, perché c'è troppa luce. Quindi bisogna andare proprio in posti remoti, in montagna, e allora si scopre veramente quello straordinario spettacolo che è il cielo, il cielo buio, la Via Lattea, che veramente è una sorpresa per tante persone. Tanti dicano ah, mi sembrava di essere in mezzo alle stelle, mi sembrava di toccare il cielo. Questo era uno spettacolo comune una volta. Infatti oggi dove si va a osservare? Oggi in tutta la Terra sono rimasti cinque o sei posti adatti per i grandi telescopi moderni. I telescopi sono estremamente complessi, estremamente diversi da quelli di una volta che costano enormemente, tant'è vero che non sono più alla portata di un singolo istituto e nemmeno di una singola nazione. In generale sono consorsi internazionali come l'Osservatorio Europeo per l'Emisfera Australe che è un consorzio di quasi tutte le nazioni di quella una volta si chiamava l'Europa Occidentale e che probabilmente si allargerà come l'Europa a altri paesi e che è composto da quattro specchi di otto metri di diametro collegati fra loro e rivalgono a un telescopio di sedici metri di diametro che è il più grande del mondo oggi e che si trova in Cile sulle Ande sul monte Paranal nel deserto di Atacama quindi una zona estremamente isolata impervia dove il cielo è veramente buio e il cielo australe è ancora molto più bello di quello boreale perché nel cielo australe si trova il centro della Via Lattea quindi la zona più ricca di stelle e dove piove si e no venti volte l'anno quindi uno può contare su più di 300 notti serene all'anno e quindi veramente l'investimento finanziario enorme che è stato fatto è spesso bene diciamo poi oltre a questo in questo appunto sulle montagne cilene oltre al telescopio europeo c'è il telescopio nazionale americano poi altri posti adatti beh in Messico in Baca California c'è una zona abbastanza buona c'è il deserto dell'Arizona dove c'è il telescopio di Kittepic dove si dovrà mettere un telescopio una collaborazione italo tedesca e americana un telescopio costituito da due specchi di 4 metri di diametro montati su un'unica montatura per cui è come un gigantesco binocolo poi c'è in Europa niente in Europa non c'è assolutamente niente troppa luce troppo smog l'unico posto che geograficamente non è Europa ma politicamente ancora Europa sono le Canarie dove è situato dove ci sono parecchi telescopi europei e fra l'altro il telescopio nazionale italiano di 4 metri di diametro che è entrato in funzione da poco più di un anno e poi c'è il deserto australiano c'è il vulcano Maunakea il vulcano spento Maunakea alle Canarie alle Hawaii dove c'è due telescopi da 10 metri degli Stati Uniti e infine c'è l'Antartide l'Antartide è un luogo eccellente per la ricerca astronomica perché è un clima estremamente secco e a parte il freddo ma dà delle uno dei più adatti ma quanti sono saranno 6 7 non di più quindi posti eccellenti oggi sulla Terra sono questi 6 o 7 poi ci sono tutti i telescopi degli astrofili i quali fanno anche un lavoro utile perché gli astrofili sono in certo senso complementari agli astronomi professionisti perché la scarsità di grandi telescopi fa sì che la richiesta di tempo d'osservazione superi di 10 volte il tempo disponibile quindi noi possiamo avere uno di questi grandi telescopi possiamo avere una settimana all'anno per i nostri programmi e quindi si può osservare in dettaglio certe stelle che però hanno bisogno per esempio perché sono variabili irregolari di essere osservate in continuazione quindi il lavoro continuo d'osservazione lo può fare l'astrofilo e i dettagli a certe epoche sparpagliate qua e l'anno e il tempo lo fa l'astronomo professionista in questo senso c'è veramente un lavoro utile che è complementare a quello che fa il professionista dei grossi telescopi seguitando quella che è stata la mia vita dopo la laurea io ho seguitato come si poteva fare allora un assistente volontario perché appunto si era nel 44 come ho detto aveva cominciato l'osservazione a giugno agosto intanto mentre io facevo le osservazioni c'erano i tedeschi a Fiesole cioè a nord di Firenze e gli alleati alla Certosa a sud di Firenze e stavano sparando sulla terrazza dove si trovava l'osservatorio cascavano continuamente schegge anzi proprio in una delle occasioni morì il figlio del direttore dell'istituto d'ottica colpito da una di queste schegge e noi facevamo le osservazioni appunto io e Mario Gerolamo Fracastoro che era l'assistente del direttore dell'osservatorio Giorgia Betti che mi insegnava a utilizzare lo strumento e a fare appunto tutte le varie operazioni sviluppare le lastre misurarle eccetera cioè tutte le operazioni necessarie per ricavare tutti i dati possibili da queste lastre quindi la mia è stata una tesi sotto le schegge e l'8 agosto arrivarono gli alleati i tedeschi se ne andarono e prima di andarsene buttarono giù tutti i ponti sull'Arno ad eccezione del ponte vecchio però in compenso buttarono giù tutta la strada prima via Pol Santa Maria e tutta la strada dopo via Guicciardini e in questa operazione saltarono Firenze rimase senza luce senza acqua senza gas per parecchio tempo mi pare fino a dicembre da agosto e io quindi per fortuna avevo raccolto abbastanza materiale da poter terminare la tesi cioè il materiale osservativo le lastre ce l'avevo e ho elaborato la tesi e l'ho scritta all'uma petrolio perché la luce non c'era alternandolo andare a cercare la legna via al decolli perché appunto non c'era più gas tirare l'acqua dal pozzo e vivere insomma come si viveva nell'ottocento e noi eravamo fortunati perché si abitava in una casa vecchia una casa era ereditata e la mamma aveva ereditata dal nonno e quindi c'era ancora il pozzo c'erano sotto i fornelli a gas c'erano ancora fornelli a legna e quindi ci si poteva arrangiare abbastanza bene e finito la tesi mi sono potuta laureare a gennaio del 45 perché l'università riaprì a gennaio perché la vita praticamente si era fermata da agosto fino a dicembre del 44 e dopo la tesi cosa fare io avrei voluto seguitare a fare ricerca purtroppo in quel periodo di posti non ce n'era anche l'assistente che aveva appunto Mario Gerolamo Fracastoro che era un discendente del famoso Gerolamo Fracastoro del 1500 mi pare anche lui era fermo come assistente universitario dal 33 che era entrato non aveva fatto nessuno scatto di carriera fino al 45 proprio a causa della situazione della guerra e quindi figuriamoci se c'era posto per una neolaureata e quindi ho lavorato così come assistente volontario poi davo ripetizioni e poi ci fu una borsa di studio dell'istituto d'ottica che ci permise di tirare avanti per un altro mese o due poi ho lavorato per nove mesi alla Ducati che aveva allora una ditta una succursale diciamo a Milano dove facevano una macchina fotografica chiamata Sogno che era più piccola era la più piccola macchina fotografica che c'era allora e che la metà della Laica che era la macchina di gran moda allora e poi dopo questi nove dieci mesi a Milano da Arcetri mi invitarono a tornare come così come fatturista come si diceva allora allora si poteva lavorare in nero lecitamente a metà servizio fra l'osservatorio d'Arcetri l'osservatorio astrofisico e l'istituto d'ottica che si trovava nello stesso comprensorio dell'istituto di fisica e mi ricordo io lavoravo dunque all'istituto d'ottica mi davano 15.000 lire in mese e l'osservatorio astrofisico mi dava 5.000 lire in mese quindi 20.000 lire in mese d'altra parte alla Ducati ne pigliavo 21.000 quindi quelli erano gli stipendi degli anni 47-48 e sono rimasta come precaria dal 47 anzi dal 45 perché poi dopo la tesi ho sempre seguitato a lavorare a proseguire il lavoro della tesi e sono rimasta lì fino come precaria fino al 49 poi sono diventata assistente incaricata e finalmente nel 50 ho vinto il concorso per assistente di ruolo e così ho cominciato con una certa tranquillità a fare ricerca a tempo pieno poi ho avuto la fortuna anche di avere un direttore d'osservatorio come Giorgia Betti che era estremamente liberale e che era l'unico fisico nell'ambiente astronomico perché allora dei 12 osservatori italiani tutti erano diretti da laureati in matematica e meccanica razionale cioè persone che avevano una formazione matematica e che proseguivano ricerche che erano ormai diventate obsolete perché la nuova astronomia era l'astrofisica cioè lo studio fisico dei corpi celesti lo studiare i moti delle stelle e le loro distanze allora era non portava più niente di nuovo a quello che si sapeva già quindi era un ripetere cose già fatte oggi le cose sono diverse perché con i mezzi attuali e con le ricerche spaziali la meccanica celeste è diventata estremamente importante ma allora non aveva più senso seguitare le ricerche quindi l'astronomia italiana ha visto un periodo di grande depressione proprio perché a partire dall'inizio del novecento fino al 1960 70 in quasi tutti gli osservatori c'era questa tendenza a fare ricerche obsolete a parte l'osservatorio astrofisico di arcegine anche in questo a parte la mia famiglia che ho avuto molta fortuna a parte il mio compagno che mi ha sempre spinto incitato a lavorare con costanza e con fiducia a me stessa ho avuto anche la fortuna di crescere in un osservatorio astrofisico che era l'unico che faceva ricerche di astrofisica moderne e questa e questa e la mentalità anche del direttore era importante perché appunto gli osservatori astronomici erano istituti monocattedra in cui il direttore aveva praticamente poteri assoluti non era tenuto a consultare i suoi collaboratori a parlare con i ricercatori dei programmi da svolgere non si sapeva assolutamente quali erano i fondi disponibili per la ricerca quindi una struttura del tutto monocratica mentre a Betti a Firenze era molto più aperto anche se avrebbe potuto tenere all'oscuro i suoi e decidere lui dei programmi di ricerca in realtà era estremamente democratico consultava tutti discuteva con tutti non si vergognava a chiedere all'ultima ruota del carro che ero io che cosa facevo perché farsi spiegare le mie ricerche senza vergognarsi di non avere capito di non sapere certe cose quindi in questo sono stata molto fortunata inoltre mentre gli altri tenevano gli altri direttori difficilmente favorivano i loro collaboratori a andare all'estero andare a lavorare in istituti dove si faceva ricerca moderna li tenevano legati al loro osservatorio a fare ricerche superate e questo spiega questa depressione dell'astronomia italiana invece Arcetri avevamo Abetti ci ha sempre aiutato tutti a trovare borse di studio per andare fuori e quindi per migliorare le nostre conoscenze per lavorare in ambienti molto più vivaci e molto più attivi nel campo della ricerca moderna le cose sono cominciate a cambiare e questo è stato un periodo molto importante proprio negli anni sessanta io ho vinto la cattedra nel sessantaquattro e avevo dunque avevo quarantadu anni la Vagapovskine ha avuto la cattedra solo a cinquantasei io l'ho vinta all'età classica a cui si fa in cattedra di solito quarantadu anni e mi domanda molti se ho avuto difficoltà nell'arrivare appunto al massimo della carriera che quando si vince la cattedra si tocca il cielo in un dito siamo arrivati al top no io direi difficoltà grosse non ne ho avute però credo che avevo molto più titoli dei miei colleghi perché appunto avevo lavorato molto all'estero avevo avuto riconoscimenti da grossi nomi uno di quali era quell'otto struve che avete visto prima in fotografia e quello che della tesi della Gapovskine disse che era la più splendida tesi la migliore tesi che lui avesse mai visto ecco con otto struve ho lavorato ho avuto molta opportunità di avere dati eccellenti di Monte Wilson e Palomar e quindi di fare dell'ottima ricerca che non avrei potuto fare se fossi rimasta sempre in Italia avevo riconoscimenti di queste persone e quindi questo ha fatto sì che vincessi la cattedra fosse la prima interna e se forse forse non lo so ma se forse io avessi avuto gli stessi titoli dei miei colleghi forse la cattedra non l'avrei vinta quindi forse questa è stata la la difficoltà diciamo di affermarsi beh dopo io direi né prima né dopo ho avuto grosse difficoltà ho avuto con i miei con i miei ricercatori con i miei studenti io con i miei tecnici c'è sempre stato un ottimo rapporto che ha permesso all'osservatorio astronomico di Trieste che era andata a dirigere di svilupparsi rapidamente perché quando sono andata a Trieste praticamente ho trovato un osservatorio in condizioni pietose c'erano solo due astronomi un tecnico e un impiegato e si faceva c'avevano degli strumenti molto inferiori a quelli che avevano i diastrofili i dilettanti in piena città e quindi ho dovuto cominciare praticamente da zero ma ho avuto anche la fortuna di avere a Trieste un centro internazionale di fisica teorica era assorto proprio nel 64 quando io sono arrivata a Trieste e che aveva lo scopo di dare formazione di alto livello in fisica ai giovani dei paesi in via di sviluppo per creare una classe dirigente colta in quei paesi e questo centro di fisica teorica e oggi è anche ben noto è uno dei più grossi istituti internazionali è stato estremamente usile e mi ha permesso di organizzare un gran numero di congressi internazionali che hanno fatto conoscere l'osservatorio di Trieste che hanno dato modo ai miei ricercatori di poter recarsi all'estero di poter conoscere altri modi di lavorare altri istituti e quindi hanno favorito la crescita dell'osservatorio senza questo appoggio dell'istituto sarebbe stato difficile perché solo la logistica per un congresso è estremamente costosa è difficile da mettere in piedi invece l'istituto il centro internazionale di fisica teorica aveva tutte queste disponibilità che hanno facilitato il mio compito e poi l'astrofisica italiana ha cominciato a decolare a decolare proprio negli anni alla fine degli anni 60 grazie anche alle movimenti studenteschi del 68 nel campo dell'astronomia il 68 è stato estremamente utile perché proprio sull'onda di questi movimenti i ricercatori dei vari osservatori che erano schiavizzati diciamo dai loro direttori hanno cominciato a unirsi in un movimento di ricercatori d'astronomia che ha permesso poi di ottenere dal consiglio nazionale delle ricerche un gruppo nazionale d'astronomia che ha dato modo a questi giovani ricercatori di darsi una struttura estremamente democratica con consigli di scientifici eletti da loro i quali consigli scientifici di 4 o 5 persone dovevano giudicare dei programmi che si presentavano e assegnarli i fondi fondi che erano etichettati al giovane ricercatore per cui il direttore non poteva impedirli di usare questi fondi per le sue ricerche e questi li hanno usati e li hanno usati bene andando all'estero facendo ricerche in istituti più moderni più sviluppati di quelli che c'erano in Italia e questo nel giro di una diecina d'anni ha fatto sì che l'astrofisica italiana oggi non ha niente da diciamo è una delle migliori in Europa non ha niente da perdere col confronto con quelle di paesi come la Francia la Germania l'Inghilterra gli Stati Uniti che avevano un'astrofisica molto più sviluppata già negli anni 30 ecco quindi in questo senso io ho anche avuto la fortuna di poter assistere e di poter contribuire a questa battaglia dei giovani ricercatori per una maggior democrazia nell'ambiente astronomico per la possibilità di crescere scientificamente e di assistere poi a tutto lo sviluppo dell'astrofisica delle potenzialità dell'astrofisica moderna grazie alle ricerche spaziali le ricerche spaziali sono state veramente un modo di crescere scientificamente per tutti i giovani italiani perché l'Italia non aveva ancora una strumentazione moderna avevano telescopini da 30-50 centimetri erano confinati nei loro osservatori la ricerca spaziale l'Italia fa parte dell'agenzia spaziale europea ha fatto sì che questi hanno potuto presentare i loro programmi ottenere tempo ai satelliti ai vari satelliti astronomici e questo fa sì che uno viene automaticamente inserito in gruppi di ricerca internazionali perché chi lavora nello stesso campo viene pregato di collaborare con gli altri proprio perché il tempo a disposizione è molto inferiore alle richieste ma questo inserimento in gruppi internazionali è quello che ha favorito il rapido sviluppo dell'astrofisica italiana e quindi ho avuto anche la fortuna di poter assistere a questo grande cambiamento di quello era l'ambiente astronomico e la cultura astronomica italiana dagli anni 40 agli anni 60 e questo sviluppo dagli anni 60 in poi oggi posso dire che a parte gli enormi progressi gli enormi cambiamenti le grandi conoscenze si sono acquisite in questi ultimi 20 o 30 anni c'è stato anche il vedere il grossi successi proprio di ricercatori italiani e questo è importante perché proprio in questi giorni in cui si tende a criminalizzare la ricerca italiana come se la ricerca italiana non valesse nulla bisogna buttare tutto giù e ricominciare da zero si butta giù si riforma a destra si riforma a sinistra senza sapere niente di quello che si sta facendo ebbene proprio in questi ultimi anni ci sono stati delle grossissime scoperte di gruppi di ricerca italiana uno è stato il satellite Beppo Sachs Sachs vuol dire satellite italiano per ad astronomico per raggi X e Beppo è il nomignolo di un grande fisico italiano Giuseppe Occhialini che è scomparso una decina di anni fa e che è stato il promotore dello sviluppo dell'astrofisica nel campo dei raggi gamma e raggi X in Italia bene questo satellite Beppo ha risolto un mistero che durava da più di 20 anni cioè 20 anni dagli anni 70 dei satelliti americani chiamati Vela che erano stati lanciati per vedere se nell'atmosfera si notavano dei lampi gamma che avrebbero rivelato esperimenti di bombe nucleari sovietiche nell'atmosfera scoprirono invece dei lampi gamma d'origine celeste cioè in tutte le direzioni del cielo si vedevano casualmente apparire dei brevi e intensi aumenti di intensità di radiazione gamma quindi radiazione a cui l'occhio non è sensibile ma questa strumentazione vedeva questi lampi apparire in tutte le parti del cielo quindi il fatto che fossero distribuiti in maniera uniforme per tutto il cielo era la prova certa non erano sovietici ma era proprio un fenomeno naturale ma siccome i rivelatore di raggi gamma sono poco direzionali quindi ci dicevano che quel lampo proveniva da un angolo di cielo di 5, 10, 20 gradi ora in 5, 10, 20 gradi ci sono miliardi di galassie miliardi di stelle quindi era impossibile dire qual era l'oggetto celeste che aveva prodotto questo lampo gamma e senza sapere qual era l'oggetto che l'aveva prodotto non c'era modo di capire qual era l'energia emessa qual era la distanza dell'oggetto e quindi qual era l'intensità dell'energia emessa questo problema l'ha risolto questo Beppo Sachs che ha mostrato che questi lampi gamma provengono da delle grandi grosse stelle 20 volte la massa del sole o più che esplodono in lontanissime galassie la prima scoperta si trovava 8 miliardi di anni luce quindi noi si osservava l'esplosione di una stella avvenuta 8 miliardi di anni fa e quindi questo ha mostrato che nell'esplosione di queste stelle viene liberata un'enorme energia che supera di 100.000 volte l'energia che il sole emette in tutta la sua vita di 10 miliardi di anni mentre questo è un fenomeno che dura a pochi secondi quindi un'enorme produzione di energia e questo appunto è stato questo problema è stato risolto da un'equipe di fisici italiani con un satellite italo-olandese cioè costruito con tecnologia italiana e olandese l'altro grosso successo negli ultimi anni risultato del 2000 è stato si chiama boomerang è un pallone stratosferico lanciato dall'antartide che per le condizioni meteorologiche dell'antartide poteva orbitare intorno al polo sud della terra per una decina di giorni la strumentazione questo è un esperimento internazionale capeggiato da un fisico della sapienza di roma paolo de bernardis e con una strumentazione costruita e progettata alla sapienza e costruita in Italia e che cosa ha scoperto questo? questo ha potuto misurare certe particolarità della radiazione emessa a lunghezza d'onda di qualche centimetro che ci mostrano la fotografia dell'universo all'età di 400 mila anni cioè 400 mila anni dopo il big bang l'inizio dell'universo e quindi ci permetteva addirittura di ricavare qual è la struttura dello spazio del nostro universo uno si domandava da decenni lo spazio in cui viviamo l'universo è piano è sferico è chiuso è curvo è aperto beh da questo esperimento si può determinare che lo spazio in cui viviamo è piano cioè uno spazio che obbedisce alla geometria euclidea cioè la più semplice geometria che conosciamo quindi anche questo è stato un grossissimo risultato essenzialmente della scienza italiana altri grossi risultati su Mars Express sulla sonda in orbita intorno a Marte la sonda europea ci sono due esperimenti italiani il primo dei quali ha accertato in via diretta la presenza la presenza di acqua al polo sud mentre i robot americani le spirit e opportunity hanno accertato una prova hanno una prova indiretta della presenza di acqua dovuta alla certe particolarità delle strutture geologiche alla presenza di certi minerali che si possono formare solo in presenza di acqua mentre l'esperimento italiano ha mostrato proprio lo spettro cioè la luce solare riflessa dal polo sud e la presenza di assorbimenti dovuti alle molecole d'acqua che stavano evaporando sotto la luce del sole quindi un importante esperimento un altro esperimento e speriamo di sapere presto i risultati è un radar di costruzione anche questo italiano che dovrebbe scandagliare il sottosuolo di Marte fino alla profondità di 5 km per dirci se c'è acqua e quant'acqua c'è e dov'è quindi diciamo che la scienza italiana in astrofisica è eccellente e che quindi dovrebbe avere ci dovrebbe essere più considerazione per la scienza italiana l'astrofisica la fisica i progetti e le scoperte dei fisici del CERN del laboratorio del Gran Sasso sono eccellenti risultati e quindi la scienza italiana è tutt'altro che da buttare questo dovrebbero rendersi conto dovrebbe rendersi conto il nostro governo che considera la scienza italiana come qualcosa che va rifatta da zero e per cui si spende e per cui si taglia fondi all'università si dà ai giovani una prospettiva estremamente frustrante perché mentre oggi un giovane che ha il dottorato di ricerca e che quindi ha già alle spalle 4-5 anni di università 3 anni di dottorato spesso anche altri 2-3 anni come assegnista o come borsista quando vince un corso di ricercatore può aspettarsi una certa tranquillità uno stipendio misero ma comunque una certa tranquillità oggi che cosa gli si offre con la proposta riforma gli si offre come ricercatore 5 anni a contratto a termine più altri 5 anni a contratto a termine e così dopo 10 anni se non vince una cattedra e questo non è sempre legato alla capacità di una persona questo a 40 anni o 42 anni si trova a spasso questo è quello che si propone per richiamare i cervelli in Italia ecco e volevo aggiungere un'ultima cosa che si è fatto tagli drastici all'università al consiglio nazionale delle ricerche tanto che spesso non ci sono i fondi per pagare le fotocopie per pagare le riviste per pagare il telefono quindi non ce ne sono per la ricerca ma intanto si va a costruire ex novo un istituto italiano di tecnologia cavato dal cilindro dal cappello di Tremonti che dovrà che sarà è stato messo già a Genova non si sa anche qui perché a Genova perché non in un altro posto vabbè va bene anche a Genova ma almeno si poteva sapere perché questo istituto italiano di tecnologia non si sa che cosa dovrebbe fare non si sa chi ci andrà ma quello è più grave che già per il 2004 ha 50 milioni di euro a disposizione e dal 2005 al 2014 cioè per 10 anni avrà a disposizione già assegnati 100 milioni di euro all'anno per fare cosa non si sa e quello che è peggio è una cosa inventata di punta un bianco da Tremonti e poi con la Moratti ma senza minimamente consultare la comunità scientifica come pure la riforma dell'università come quella della scuola come quella della giustizia come quella della sanità tutto senza consultare gli addetti ai lavori grazie